Un buon compleanno oggi all'ex Capitano dei Carabinieri dell'Aquila Marco Capparella, una persona speciale che ha sempre avuto ottimi rapporti con la nostra città e che anche oggi, che è tornato a Roma con un altro incarico, non dimentica mai le amici aquilani e una città che è rimasta sempre nel suo cuore. Colto ed esperto e scienze dell'investigazione, amante della musica, delle moto e della lettura, al Capitano Marco oggi migliori auguri da parte di tutti noi di TV1 che non lo abbiamo mai dimenticato.